Io le rank delle gioco aggressive, se adesso ci muoio per pushare, pure se sono full points, ho fatto più 109, più 109, vado in negativo? No, vado in positivo, almeno mi son divertito. Tanti punti li faccio uguali, sia qua che a diamante, non mi importa. Adesso si cerca, porco zio, se hanno scritto cosa ha fatto la patch, palesemente non l'hanno scritto, fanno la patch ogni settimana senza mai dire un cazzo. E invece, problemi con abilità su Stormpoint, controller third party che non funzionano su Xbox, e dei fix, cioè patch di 8 ore, cioè copia di 8 ore per patch che sistema i controller su Xbox. Vediamo, pazzi random in ranked, che cazzo combinano? Ragazzi, subito un bel mi piace perché ho messo le vostre due cose preferite in un video solo, le ranked e i random. Commentate il video dicendomi da quanto tempo non trovate un random decente, ragazzi, vi ricordo che mi trovate ogni giorno in live su Twitch, al momento per continuare la scalata fino al master, e buona visione. Vabbè, Dracor che su Whatsapp mi scrive, ci sono domani sera, sticker di Clash Royale. Io mi metto la lifeline, vabbè insomma un po' peggio di prima, 9000 kill avrete però dai. Pazzo blotti diamante. E vabbè. Che palle, 102. Porco zio, bravo, mica che l'ho smirato. Ah oh, non ci provà. Sei fortissimo, sei bravo, bravo, bravo. Gli ha fatto danni, gli ha fatto danni importanti. Però gli ha ridato la viola. Godo, gli ha ridato la viola, me la ripiglio io. Quanto godo. No. Fra, scappa, fra, scappa, fra, scappa, fra, scappa, fra, scappa, fra, cazzo, scappa! Ah, grosso GG per i blodi, eh, prova a coprirti, fra. A parte che ci stavano minchia 8 batteri là, non l'ho raccolte, che palle. Come ti sto coprendo, come, come ti sto coprendo bene, come ti sto coprendo bene, craccati due. Come ti sto coprendo bene, amami. Ci inseguono? Madonna di Dio. Si va a respawnare il brother. Madonna quanto prendiamo il cazzo adesso. Ma l'accelerante alla fine lo posso fare da qua? No. Perché non lo mettono nella ruota delle cure? Nice! Levati dal cazzo. Golosino che pusha il respawn. Prendetevi questa blu fantastica. Quello è stato appena arrestato e si sta fullando. Golosino che pusha il respawno. Grazie. Camper infame Lido. Puttanella. Lurida. Madonna, ragazzi. Ragazzi, complimenti. Complimenti, raga. È uscito qualcuno a sinistra? Godo. Godo tantissimo. Bravi! Bravi. Bravi. Qua. Al centro. Al centro. Pazzi. Pazzi. Al centro. Raga. Raga. Leggere. Tieni. 40. Vieni qua. Vieni qua. Vieni al centro. Oh. Bravo, bravo, bravo. Madonna, come ci rubano loot. Guardali, infami. Guardali. Comunque la Vrate sta sparando bene. Secondo me i 2k li fa. A differenza di qualcuno qua. For the meme. Ma no, dai, neanche male. Madonna, quanto è forte la Vrate. Quante ne sa quanto è forte. Quanto è forte. Ma è incredibile. È incredibile. È imbarazzante. Troppo forte. Tripla? Ah no, sta all'altro team. Raga, se volete sparargli. L'ha noccato. L'ha noccato veramente. Bravo. Minchia mi emoziono. Due compagni forti. Ma? Madonna, godo che l'ho preso con l'ultimo colpo. Sarei impazzito, giuro. Ho finito i colpi. Nice. Non è il caso di sparare a quelli a terra. Dite? Sì, ci sta. Qua. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Godo. Mio. Non toccare. Ah, ho la rossa però. Ulti. Madonna, che teammate! Sai che c'è il ribo? Sparite! Comunque alternator la si tiene palese. 1000x carabina. Quante cazzo di siringhe? Immaginate avere Lifeline, avere 32 siringhe, porco zia. Ah, ma la rossa, fra! Sta una rossa qua dentro! Ma ve la fullo io piuttosto, madonna, il team con Rampage e Radius, Radius e Rampage. Non posso neanche dire niente. No, non è vero, posso dire perché io non ce li ho. Domanda piccante, orecchie o naso? Io direi... Orecchie tutta la vita. Raga, però gli avete lasciato la rossa, mi fate tiltare. Stava full rossa, gliela lasciamo a loro. Guarda come se la piglia lui, guardalo, guardalo. Guarda, spero che ci moriate da lui, proprio da lui con l'arma rossa, lasciata da voi che non avete voluto raccoglierla. Quanto ci godrei? Madonna, Rampage, Triple Tick, Rampage, Triple Tick e Radius. Rampage, Triple Tick e Radius. Armatura rossa. Perché io devo fai tac con uno con l'arma rossa? Perché loro non l'hanno raccolta. Che palle abnormi. Non era vuota, aveva due tac, che figa fai tre celli e te la fulli, è una cazzo di rossa, oh. Facciamo i seri. Minchia se la poteva fulla tutta la vita, due secondi ci stava, due secondi. Ragazzi, possiamo non trollare? Bravo, bravo, tu sei fortissimo, niente da dire. Ma pigliati la conferma, è rosso? Non è quello rosso. Avvicinati. Quale abbiamo fatto? Il Rampage, il Triple Tick e il Radius. Ma, sentiamo con cosa ci sparano. Il Rampage è ancora vivo, il Radius è ancora vivo. Abbiamo fatto quello col Triple Tick. Buona. Scappano? Siete al limite del ridicolo imbarazzante, ragazzi. Raga, sparate anche voi, per favore. Sparate anche voi. È sceso, veramente. Raga, raga, raga. Torre di lancio. Oh, ma l'altro, l'altro, dove sta, dove sta, dove sta, dove sta? È scappato quello One. Ho il ciclo. No, sono tiltato. Voglio trovare questi due. Dai, che siete poco propositivi, correte, figa. Io giuro che se va a finire che ci moriamo da quel team, impazzisco. Che tilt! Il replicatore che non ti fa vedere nulla. Altro team qua davanti. No. No, allora, non dobbiamo fin impaninati noi, però. Ho 12 punti, cosa pusci per rischiare? Voglio fare partite belle, non mi frega un cazzo dei punti, madonna. Io gioco le ranked aggressive. Io le ranked le gioco aggressive. Se adesso ci muoio per pushare, pure se sono full points. Ho fatto più 109, più 109. Vado in negativo? No, vado in positivo. Almeno mi sono divertito. Tanti punti li faccio uguali. Sia qua che a diamante. Non mi importa. Poi certo, in caso ci metterò più partite. Eh, vabbè, ci metterò più partite. Ma se mi posso divertire, mi diverto, Cristo. Bravi, raga. C'ho pure il lifeline con lo zaino oro. C'ho pure il lifeline zaino oro, quindi... Stanno qua sotto. Stai qua. Bravo, bravo che prendi. Madonna che prendi il crack, bravissimo. Spitfire full, godo. Ci leviamo dai coglioni adesso. Ma là sopra sta unsafe. Godo! Full team là sopra. Con lo sniper ancora. Muzuna se tilto. Vogliamo fare qualcosa? Ci mettiamo nella casa che sia unsafe. Due ore e mezza che pingo quella casa, eh? Cioè, se adesso ci moriamo perché non ci siamo andati, tilt. Ma tantissimo. Vieni giù, oh! Dai! Muzuna. Proprio là sotto si può giocare, immagino. Venite. Però devono ascoltare un minimo, figa. Un minimo. No, i 4K non li faccio. Non c'è abbastanza gente, secondo me. Non mi piace. Pusha veramente? Bella. No. Dai, 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 dai. Buono! No, si fosse restato anche l'altro, minchia. Bravo! Bravo! Vai. Bravissimo. È che sono andato di alternator, volevo ricaricarla a spetti. Qua, mega clutch dello zaino oro. Minchia, fammi prendere le conferme, dai. Secondo me siamo 3v1v1. Cioè, 2v1v1 ormai perché il nostro teammate è bello morto e defunto, però... Au! Vieni verso la siffa, aspetta, fra... Qua? No! No, 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 no. Vabbè, impazzito. Impazzito. Impazzito! Prova il clutch! Lo cracca! Vai, tuo! Tutto tuo! 1v1! Bravo, bloody! Bravo, bloody! Minchia, che forte. Secondo me l'avrei T2K li ha fatti, ma li ha fatti anche il bloody, secondo me. Grossi, grossi teammate questi. Grossi teammate. Per una volta che si beccano due teammate con un quoziente intellettivo carino. 2353 dell'avrei T1632 del bloody. Fantastici. Steggich, l'ultima volta che ha fatto i 2K con me nel Paleolitico, se li ha mai fatti. L'ultima volta che ha fatto i 3K con me nel Paleolitico, se li ha mai fatti anche i 3K con me nel Paleolitico. Un checking. Per la volta che ha fatto i 3K con me nel nail di Paleolitico. Sen Punto Que Con Il Grazie a tutti.